Il tuo amante non ti tradisce quando va con altri. Ci sono donne che temono che il loro amante sposato le possa tradire, sono gelose e quando questo magari scoprono che va anche con altre donne si incavola. Gni, mi hai tradito, gni, 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 gni. In realtà non ti può tradire perché l'unica tradita eventualmente è la moglie, ma tu sei già l'amante, quindi il fatto che vada con altre donne è normale perché lui tradendo la moglie, cioè a te non ti tradisce neanche, tu non rappresenti nulla. Il tradimento è quando c'è una relazione ufficiale come un matrimonio, un fidanzamento, qualcosa, tu sei già una traditrice, tra virgolette, nel senso che no, tu non è che tradisci, però lui tradisce, quindi a te non ti può tradire, quindi consolati, le corna, tu non le porti. Anche se va con cento altre donne, l'unica tradita sarà la moglie, questa è l'unica consolazione che puoi avere. Metti un like con l'abbonamento base, segui tutti i miei seminari. Ciao a tutti.